Brava, un'ora dopo l'altro, dopo un po' capisci che cosa vuoi? Non c'è l'ho più scusa! Fagli in un ordine diverso. Dai rifallo, dai Chiara. Salta! Brava! Terra! Terra! Brava! Seduta! Dopo un po' non si alza più, diciamo che cavolo mi fa fa' Chiara? Seduta, seduta. Zampa! Brava! Brava! Non so sempre quelli, quindi non è che possiamo andare avanti a vita, ma scusami. Scusami, segnali qualcun altro. No, no, non so così. Non strappare l'erbetta. Vuoi fare, mette seduta? Degli seduta. Vuoi fare? Togli questo, fai... Seduta, Degli. Ah! Seduta! Fatti la zampa, fatti la... Degli zampa, zampa. Zampa, di zampa. Dai qui la mano, hai capito? Scusami, sei qual è il tuo problema. Berra, va, siccome si può credere. Non so, non so, non so. Fa una serie di cose che... Ma scusa, insegnagli qualcos'altro, Chiara. Qualcos'altro? Qualcosa? 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 Tipo... Eh... Lingua, insegnagli lingua. Lingua? Eh? E come faccio? E come gli altri? Lingua! Vedi come devi andare? Rotola, devi insegnare a rotola. Rotola, non riesco. Ah, non ce la fa prendere. Chiara, 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 chiara. Salta, salta, chiara. Chiara, seduta, seduta, seduta. Seduta. Oh, seduta. Fa tutto da su. Lo dica Cecilia, lo dica Cecilia. Addormentati. Addormentati, Cecilia. Chiara, ipnotizzala, dai, ipnotizzala. Tu adesso sei una gallina. No, più che altro, guarda che non è facile, perché trovala la ragazza che gli fa. Sì, ma dopo, vedrai, non sono più, non va più al centro social. Anche Sara, terra, zampa. Però è molto succedente questo cane, hai visto come stanno tutti? Perché è un cane da compagnia, anche per i cecchi. Poi c'è una buona... Ah, per i cecchi. Per i cecchi. Abbiamo una maestra però, a tre anni. Oh, ma tu a tre anni? Quando c'ha tre anni? Ci ho fatto domande. No, eh, basta. Ma questo è grosso, quindi quanti mesi c'ha? Sei? Ma non mi daranno così niente. Sei? Non mi danno così niente. La pensione ti dà? Sì. Ce la sei? Poi stasso c'è stato tutto il problema dei farsi cittadini. Eh, è attento, dai. No, no, no. Sì, ma se sa che sono... No, no, ce le piali. Tira, tira, basta. Basta. Ci stanno quelli che magari... Oh, guardate, fermate Filippo. Cos'è che mi dicevi? Chi è che l'ha fatto fuggire? No, no, no. Aio. Filippo l'avete dimenticato, l'avete dimenticato. Ah, no, si vede. Tenta Filippo, eh, che... Eh. Lo ve lo diamolo. Stava fuggendo. Sì. Rotola. Pure rotola riesco. Cos'è? No, no, no. Lo sei.